bello a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video come sempre sono in compagnia di shark13 ciao shark ed eccoci qui carissimo amico mio prima di iniziare questo nuovo giochino cosa dobbiamo fare shark? arrampicaci ma no shark ma quale arrampicarsi dobbiamo ringraziare per i mille iscritti per i mille iscritti esatto shark adesso invece possiamo super iniziare perchè abbiamo già ringraziato giusto? siiii andiamo ed eccoci qua è questo nuovo gioco da mister touch mitch touch cosa vuole? portati ecco bisogna premere questo ok oddio che è successo? perchè deve andare al pannello? ah quindi pensavo che si era crashato il gioco invece aspetta mister mh mister mh dove è andato? dove è andato mister mh? dove è andato mister mh? aiuto che cosa? a più avanti a più avanti che è più avanti? che su? ah che power is off the nack back si back su si ho capito tutto no tutto buio it's a gamer no no shark aspetta mille aspettami lì intanto io vado ecco ecco ho trovato la leva per ti spassi che miseria oh ok ho riattivato la luce a me invece mi si è bloccato il personaggio come ti vedo che ti muovi eh ora hai riattivato la luce the band so open the probabilistici safe ok quindi il band tocca seguire il band quindi il band porta di qua il band ecco il band ha fatto ha fatto aprire la botola vai shark destra sinistra andiamo oh l'ho trovato che bello io sono a due tu come a due devi trovare questi cosi qui dove hai preso il secondo secondo l'ho trovato qua dentro eh ragazzi qui qui è tosta qui no anzi lo trovo oh il grande x shark ci sei no perché perché rimani sempre dietro qui qua è difficile qua è difficile ragazzi vai shark dove sei qui la vedo a base shark qua devi inventare un qualcosa te no aspetta come hai fatto ecco questo ma come hai fatto a superarlo io muoio ah no anch'io no aspetta ti avevo visto ti avevo visto che te l'hai arrampicato no non funziona non funziona non funziona non ho bisogno di trucchetti shark dove sei eccoti ci sei wii oh da porca miseria all'ultimo non mi dico devo riparti tutto da capo speriamo di no no anzi ma pure salvato vai shark io ti vedo that look d'angelos better no fell fell si fell vai uno no shark porca miseria shark dai non ti non ti scoraggiare ma soprattutto non scureggiare porca miseria ci sei shark ci sei ah ti ho visto ti ho visto vai non cominci a correre a saltare ecco cominci a subito a saltare non ci vedo niente no ah ti aspetto qui la storage room shark ma dove cavolo sbrigati non saltare vuoi vedere una cosa come un butto ma qua ci tocchiamo ah no non ci tocchiamo meno male vuoi vedere come butto vai vai fammi vedere come ti butti ciao non capisco shark ma ti vuoi sbrigati guarda io con che aggirida guarda 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 io subito e vado in sotto no ci ho calchato anch'io no davvero no ma io puoi ripartire a capo no porca miseria per sta a pensare le tue cavolate levati dai sbrigati guarda guarda io con che aggirida e salta e salta ma che salti l'ultimo puoi saltare vabbè vado nella nella storage room che cos'è la storage room è power si so capito tutto shark anche io qui bisogna trovare una chiave trovata davvero c'è una chiave c'è l'interruttore quale chiave porca miseria ora possiamo trovare la nostra chiave adesso possiamo andare nella porta trovata perché bisogna trovare una chiave ma zio ho detto spara dove c'è qua qua dove? nella cassa rossa nella cassa rossa ti sposti? no quella è perché non me lo fa? porci sopra ah ci puoi ma porca miseria va bene oh ma non ti arrabbiare porca miseria oh la chiave ho la chiave ho la chiave ho aperto la porta wow che scoperta ma aspetta che qui c'è mister elettronic lui è mister elettronic attenzione ha fatto corre si è velocissimo corri 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 dove sei andata a destra o a sinistra? a destra io a sinistra oh è velocissimo ecco infatti ho preparato il segno io ho preparato il segno eh anch'io ma sta seguì solo a me sta seguì anche a te no ce ne abbiamo uno però lui non mi dico che qua è chiuso si ah ah ha fregato ho beccato un piccolo cieco porca miseria chi è che sta a saltare la sciacca ma tu stai qua eh perché questo è il senso che l'ho schivato cioè per il miracolo mi sono salvato oui 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 mi sta a attaccare le costole corri posso andare a destra io a destra vediamo se come è destra no è un piccolo cieco per forza a sinistra oui 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 corri 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 sanno che non mi prende ma forse perché è piccolo io l'ho seminato ah perfetto ora anch'io vado a sinistra allora si le frecce ecche guarda a destra non vedo le frecce aiutami guarda sempre dritto si dicolo cieco lo scommetti ok ecco le frecce anch'io anch'io corri 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 e per le tre ci sono finite ce ne è stata solo una no ah eccola sinistra ok dai che mi sta per raggiungere dai sbrigati corri ma perché non aveva la modalità turbo ciacca tu sei arrivato si ok sono arrivato perfetto grande dove sei dove sei oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio aspetta aspetta ciao dai sbrigati no no come hai detto ciao no tu l'hai detto ciao ecco un'altra petanina mamma che si oddio ho messo a posto sai cosa mi fa ricordare no ma che porca mi hai fatto prendere un colpo ma che ho fatto di nuovo ma ma porca miseria ma muori in silenzio aspettami mi fai prendere gli accidenti no ma che urli poi al secondo ma al secondo di cosa le cose l'altro no ancora i tubi sei porca miseria shark porca miseria non riesco a farla le mustache sbrige oh mamma presentami ancora st modifying va bene non riesco a farla aspetta che porcaccia miseriaccia aspetta pro pum bur bur Rio porcaccia la miseriaccia questo oh ho shark si è arrivato finalmente ti devi togliere dalle scatole ecco se ti togli dalle scatole io ce la faccio intanto io vado avanti nooo mio dio oh mio dio la torre oh mio dio la torre no come la torre in feglie io sti cose li prendo anche se non sa come te oh ciao Shark come ne fai dove sei io ne ho due ho due dove li trovo ma dove li trovo Shark li trovo in giro dove li trovo lei che dicono guarda stiamo qui Shark nooo come fa un po' più fini sti cosi perché non mi dico devo risalire si devo risalire e non lo so molto veramente ah no aspetta non l'ho capito Shark ma tu dove sei ah la torre si superato ok perfetto ah si 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 perché qua sono morto dove ecco sono rimorto un'altra volta porcaccia la miseriaccia vai vai niente oggi non è che andrà dritto ho capito così è rimasto un nuovo nuovo ancora il po' che c'è e ho visto già dei dei pingiglioni ecco il grande X Shark grande Shark immagino che tu già sei morto mazza ti dice più sta scala che è la scala infinita dai Shark ti aspetto qui vai Shark ci sei? no come no sempre no sempre no sempre no ti sto aspettando dove sei che non ti vedo ecco ti vai Shark prego 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 no devo esserci prima io ah giusto dai dai ti aspetto qui vai no aiuto mi sono pagato no ma non ci perché vai mi porto io guarda no possibili dove vanno vai in avanti guida guida caccia ghiaccia fatto ah scusa scusa che sei oggi sei ecco anch'io non l'ho fatto no questo tu l'adori eh io già l'adoro anche questo ui emu quella è questo che cos'è? devi andare a finire dentro il fuoco ah ah perché fa molto perché non l'ho finito il fuoco no non ho capito dove bisogna andare qua amico passiva qua porca eh è difficile questo eh e lascia perché mi devi sempre no il grande X invece aspetta 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 prima mi tocchi il joystick e poi saliamo insieme ecco vedi come muore dai porca miseria dai ti aspetto qui allora se lo premi sono tu se lo premo solo io come si fa a preme ah ecco ecco stai calmo stai calmo no ma ah ma neanche io ma come fa a essere più sopra di me ecco adesso siamo allo stesso livello salta e salta ui 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 ok perfetto oh 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 laggiù c'è l'autobus quindi regoliamo ecco ah che urli che urli fai prendere gli infarti tu fai prendere la gente io non capisco questo mister elettronic scappa secondo me che salti ma che salti ma correrei tu ecco l'auto sopra l'auto corri 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 si chiudi 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 ecco l'hai arrivato perché me non parto ciao 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 ah secondo me secondo me siamo arrivati al termine no sono sceso dall'autobus ah dove stai andando a fette ciao amico aiuto no dove stai andando no aspettami dove sei dove sei aspettami tanto shark come puoi vedere siamo arrivati al termine in questo gioco aiuto e va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bellissimo like non dimenticate di iscrivervi al nostro canale ciao ragazzi ciao